ben ritrovati dall'ippodromo del mediterraneo per questo convegno in notturna di giovedì 16 giugno sei corse alle quali assistere campi stringati ma non per questo con esiti che possono essere scontati iniziamo a parlare della prima corsa che vedrà in pista gli allievi con cavalli di categoria g sulla distanza dei 2200 metri saranno in sei per il ritiro di vittor del ronchi nella mattinata odierna e la corsa nonostante c'è solo sei partecipanti si presenta abbastanza aperta sulla base dell'ultima buona performance qui sulla pista del mediterraneo boris lavamabel può essere un punto di riferimento per tutti poi c'è da vedere veri windy che ha vinto una corsa a palermo in aspiranti allievi adesso corre in allievi e comunque in un contesto alla sua portata tra i game che scende molto di categoria mentre è piaciuto anche ucci play alla penultima uscita non si è confermato la volta dopo però in un contesto così stringata nessuna distanza a lui favorevole penso che possa avere una buona possibilità di inserimento noi abbiamo sentito giuseppe zanca che avrà al via proprio uno dei più attesi veri windy con alla guida all'allievo giuseppe salamone e allora la prima corsa presento veri windy guidato dall'allievo l'ultima vince con la spirante allievo e vince molto bene la corsa con pochi cavalli 2002 una distanza che a lui piace sinceramente dico per la vittoria ma anche per una buona piazza ci sta gli avversari sono try again soprattutto guidato molto bene e anche ucci play è un cavallo visto in ripresa alla seconda corsa il premio cenerentola cavalli di quattro anni sulla breve distanza anche qui clari de mag numero 6 non sarà della partita ritirato prima delle 9 30 restano in sei al via e qui il punto di domanda è uno solo caiman la condizione di caiman quale sarà purtroppo l'ultima non è piaciuto tanto dobbiamo andare un po indietro in cui il portacolori del signor cucinotta ha fatto un po il bello e cattivo tempo se in condizione caiman credo che sia il cavallo da battere chi ha sorpreso all'ultima uscita è stata corri via font autrice di un'ottima gara su quella scorta corin usm che si piazzò seconda è un'altra buona alternativa andando alla corda anche clio può dire la sua su un tracciato che spesso l'ha vista protagonista e sull'onda dell'ultima prestazione siracusana di conquistador b che ha percorso 2200 metri a reinfaccia di ancora terzo anche lui merita il rispetto ma è proprio per saperne di più di caiman l'abbiamo chiesto a giuseppe zanca sentite quello che ci ha raccontato la seconda presento caiman finalmente è un buon numero le ultime non sono state diciamo molto buone ha avuto dei seri problemi uno dietro l'altro niente il cavallo ha lavorato bene nella pista si ci trova abbastanza bene la corsa mi sembra anch'essa buona spero in una vittoria gli avversari sono clio corin sm vista molto bene nelle ultime e non escluderei conquistador b alla terza corsa sarà il turno dei cavalli di tre anni 2200 metri in 7 al via e qui il francesone jump monk in allenamento a gasparello verde ha debuttato bene proprio sul doppio chilometro a palermo vincendo e qui lo trova un tracciato nuovo ma è da buon da buon sangue francese credo che una pista come quella di siracusa con ampie diritture è una curva in meno potrebbe favorire il portacolori del signor lionetti in caso contrario diciamo che le migliori alternative sono le due femmine allenate delle due soggetti allenati da antonino pecoraro ovvero d'essa siclemara che si è ben presentata e d'etton e cap che migliora corsa dopo corsa in un contesto così stringato con pochi partenti può avere una bella chance da attendere in progresso anche da jacquo abbi che a sprazzi ha fatto vedere di avere un buon motore e per una piazza il regolarista donato ha una buona chance anche lui alla quarta corsa avremo in pista anziani con cavalli di proprietà è una reclamare saranno in otto al via corsa molto molto aperta anche questa anche se il black block aloro visto alla penultima uscita al vincitore a media record qui a siracusa merita il ruolo di favorito sarà guidato dal suo proprietario bartolomeo ingardia che ha dimostrato più una volta di essere un tipino molto sveglio è in gamba e quindi è il nostro favorito si guarda via le libe perché scende tantissimo di categoria ma l'allievo di giuseppe zanca non sta impressionando anzi direi che l'abbiamo visto anche un po il regresso e quindi è un punto di domanda forse al gioco dei piazzati si può dare un particolare attenzione a zirkoviacist ben messa a 2 e di spunto a una cavalla sempre temibile tante le incognite tra queste blairwich fifi fino adesso poco convincente che però per la guida di francesco paolo caluso merita il rispetto e atas fighter sun che anche lui un po a corrente alternata all'ultimo periodo ha dimostrato di saperlo andare forte specialmente all'ultima quando è rimasto in coda per aver rinunciato al lancio e poi è arrivato abbastanza forte piazzandosi terzo con un buon inseguimento giuseppe zanca ne schiera due in questa corsa ellison di gaia al numero uno e via le libe al numero otto sentiamo chi preferisce più dei due il numero uno di ellison di gaia all'otto di via le libe guidati dai proprietari ellison sta correndo molto bene il numero è buono dovrebbe andare nelle prime posizioni a partire potrebbe prendere una buona piazza viene rientra anch'esso e ha lavorato discretamente nella compagnia ci sta bene lo corro sferrato da quattro e speriamo bene l'avversario black blocchialor calo dovrebbe andare avanti e poi difficile girare di fuori la quinta corsa avrebbe ancora cavalli di quattro anni al via sempre sui 1600 metri e qui si è ritirato ciuffolo terrell resteranno in sette al via occhi puntati soprattutto sul 6 di club wise as che è sempre stata volante qui sulla pista di siracusa aveva collezionato poco tempo fa quattro successi a seguire nell'ultimo periodo direi che ha avuto svolgimenti abbastanza contrarie e non ha potuto dare il meglio anche se mi sento di dire che la condizione è ancora abbastanza buona la migliore alternativa è chanelle delle selve che è piaciuta all'ultima uscita dopo corsa manovrata e non semplice e poi occhio a carbonia della quale si parla si parla abbastanza abbastanza bene nell'enturaggio di salvatore cintura poi occhio a carinzia olzo che più di una volta ha dimostrato che quando va liscio è capace di fare di mettere in campo prestazioni di ottimo livello però mi sembra che il pronostico vada a club wise as e chanel delle selve il convegno si chiude con una condizionata per anziani sui 2200 metri dove saranno 10 al via attira tantissimo l'attenzione proprio il numero 10 di zabolfi cavallo dagli ottimi trascorsi nell'ultimo periodo un po così però io lo ricordo vincitore ad ottima media qui a siracusa un mio trontato da 1 13 3 senza senza forzare e se la condizione lo sorreggerà non vedo come possa non vincerla questa corsa però le alternative ci sono prima fra tutte vai tor che al rientro ha vinto correndo sotto l'1 13 poi sette giorni fa corre il centrale una corsa che andata via con uno strappo violento a chiudere 57 secchi gli ultimi 800 metri e lui dalla dall'ultima posizione è venuto avanti con una discreta progressione che gli è valso solo il quinto posto però mi sento di dire che ha confermato nonostante lo schema diverso che la condizione c'è e qui ha una chance la distanza è a doppio chilometro da una grossa speranza sia zaffiro giallo ben messo al 2 che ha oliveto bargal che resta sul successo proprio a palermo la sorpresa potrebbe essere beyonce jet che salvatore cintura schiera ancora una volta con fiducia l'aveva schierata sette giorni fa nel centrale e sesta in 1 e 59 è una galla che di rimessa può fare bene se la corsa le verrà un tantino bene nel senso che può correre gli ultimi 400 metri può dire la sua ma è interessante sapere cosa ne pensa giuseppe zanca di zabulfi che chiaramente il favorito della corsa alla sesta presento zabulfi zabulfi un cavallo di qualità un cavallo che ha sempre dato il massimo in corso anche se in seconda fila una corsa di doppio chilometro lui si ci trova molto bene potrebbe anche sfilare avanti dopo sei settecento metri e poi secondo me è dura da battere gli avversari sono vaitor che la penultima corre bene non escluderei beyonce jet poi zaffiro giallo che arriva molto bene secondo l'ultima arrivando forte e lotto di oliveto bargal e quindi eccoci di nuovo qua commentare il quello che ci ha detto zanca su queste corse spero che sia stato che abbia dato delle delle informazioni buone per chi dovrà scommettere oggi in queste sei corse da siracusa ripeto che nonostante i campi stringata non c'è nulla di scontato non ci sono favoriti proprio netti e quindi sotto sotto la pari quindi ci si può anche sbizzarrire per noi oggi ripetevo è la prima primo convegno in notturna si continuerà con questi orari per per tutta l'estate e il prossimo appuntamento sarà proprio giovedì 23 giugno con con inizio sempre su questa fascia oraria a tutti una buona serata e buon divertimento con queste sei corse dal mediterraneo